Davide Caparini, il Governo Letta non ha ancora risolto la questione legata al gruppo Riva. Oggi il Ministro Flavio Zanonato è intervenuto nel Question Time. È rimasto soddisfatto dalle parole del Ministro? È evidente che ci sono delle divisioni all'interno del Governo. Non riescono a fare quello che devono, ovvero un provvedimento che consenta alle lavoratrici e ai lavoratori di ritornare in fabbrica e quindi di continuare a produrre. Il problema vero quindi è che a fronte delle rassicurazioni della magistratura sul fatto che comunque i sequestri non sono da intendersi su bene e che quindi teoricamente si potrebbe svolgere questa attività imprenditoriale il Governo non è in grado di scrivere un provvedimento che garantisca questa produzione e quindi siamo a un impasse che a due settimane dalla chiusura delle produzioni ha dell'assurdo. Questo decreto ad hoc lo fanno o non lo fanno secondo lei? Allora, dalle parole criptiche, impolitichese di Zanonato dovrebbero farlo. Non ci ha detto come sarà, quindi non sappiamo cosa aspettarci. Dovrebbero farlo se una volta verificato ci saranno le condizioni per farlo. E già anche questo sappiamo che politica vuol dire tutto e vuol dire niente. Quindi a chi oggi è senza lavoro, a chi è fornitore ed è sull'orlo del fallimento non sappiamo e non possiamo dare una risposta ed è assurdo. Sembra che la questione non sia chiara oppure che qualcuno non ce l'abbia sotto controllo? Il giudice ha dato la piena disponibilità dei beni ma l'ha data in base a quelli che sono i tempi e le modalità della magistratura e sono incompatibili con quella di una qualsiasi conduzione imprenditoriale. Vuol dire che per ogni attività di pagamento bisogna passare attraverso il custode giudiziario. E' improponibile per questo che serve un intervento da parte del ministro e del governo che cambia la norma e vista considerata l'evidenza dà la possibilità alla magistratura di fare una magistratura e quindi conservare i beni in vista di un'eventuale condanna. Ma consente anche agli imprenditori, a quelli che sono il quarto gruppo europeo del siderurgico di continuare a lavorare e far tornare la gente in fabbrica.